Benvenuti su Meteo Giuliaci. Il tempo previsto per domenica 23 dicembre resiste sull'Italia l'alta pressione di origine nordafricana e quindi prevalenza di bel tempo su gran parte dell'Italia. In particolare avremo solo deboli piogge sulla Calabria, Tirenica, sul nord-est della Sicilia, senza di piogge sul resto d'Italia, nevicate solo sulle Alpi di confine, fino a quote collinare per il passaggio di perturbazioni, di una perturbazione al nord delle Alpi, nebbie ovviamente con l'alta pressione su Lombardia, Basso Veneto, Emilia, Romagna, zone interne del centro, aumento dell'inquinamento nelle città del nord Italia, gelate deboli su Piemonte e ovest della Lombardia di notte nel primo mattino, temperature in rialzo e quindi un po' di freddo, ma direi freddo, debole, moderato di notte nel primo mattino. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.